Ieri si è molto parlato dei cosiddetti bond europei, ma io non ho capito esattamente che ruolo avrebbero e che cosa sarebbero di fatto. Si tratta essenzialmente di questo. Di fronte alle ingenti spese immediate e quelle che ci saranno per far ripartire l'economia dovuta all'epidemia, l'Unione Europea potrebbe affidarsi ai singoli stati, cioè dire ai singoli stati ognuno si vede con il suo bilancio a fronte a questi problemi. E per aiutarli ha, nei giorni scorsi, deciso di abolire quegli accordi che prevedono una limitazione del deficit dei singoli stati, quello che si chiama il patto di stabilità, di cui se vuoi parleremo una volta più in maggiore dettaglio. Un'alternativa o in aggiunta a questo potrebbe essere l'Unione Europea stessa, con le sue istituzioni, per esempio la Commissione Europea, a raccogliere delle risorse, per esempio indebitandosi sui mercati finanziari e mettendo delle obbligazioni europee, dei bonds, che vuol dire obbligazioni, sui mercati finanziari internazionali e utilizzare questi fondi così raccolti per spendere lei, la Commissione Europea, nei vari paesi, per esempio per acquistare materiali sanitari e distribuirli ai paesi membri oppure distribuire questi soldi ai paesi membri per aiutarli nella loro attività. Qual è il significato politico di questa scelta e finanziario? Il significato finanziario è che è chiaro che l'Unione Europea, che riunisce paesi di grande forza economica, la Francia, la Germania, l'Italia, tutti insieme, oltre 500 milioni di abitanti, ha una forza sui mercati finanziari molto maggiore del singolo Stato, quindi può raccogliere fondi a condizioni più favorevoli di quelle a cui le può raccogliere la Grecia, Cipro, l'Italia o la stessa Francia e Germania e può in un certo senso usare bene questi fondi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'Europa diventerebbe una unione più politica, cioè che sarebbe una vera unione di paesi in cui i problemi di uno sono anche i problemi di un altro paese e tutti insieme collaborano alla ricerca di soluzioni di questi problemi. Finora la Germania è sempre stata contraria a introdurre questi cosiddetti bond a fare queste missioni perché ha sempre rifiutato l'idea che ormai l'Unione Europea è una comunità unica. Così come il Veneto non si può rifiutare di aiutare la Calabria quando la Calabria è in difficoltà, così i paesi più ricchi d'Europa non potrebbero sottrarsi all'obbligo di aiutare i paesi deboli d'Europa. Finora la Germania non ha accettato, ma qualche segno di ripensamento ormai emerge. In alcune dichiarazioni che ha fatto la Thatcher ieri c'era un articolo sul Corriere di Mario Monti che questi problemi li conosce bene e che osservava come forse oggi la Germania sia più disponibile. Vedremo nelle prossime settimane. Vogliamo riprendere a parlare della tua giovinezza? Come vuoi, se vuoi che io riprenda a parlare da dove ci siamo fermati ieri lo faccio volentieri. Quindi eravamo fermati, se non erro, alla liberazione di Roma. Esattamente. Poi ho l'impressione che da quel momento, ho come l'impressione che riscoprimmo la possibilità di andare in giro. Tieni presente che per questa mia abitudine a dire che mi chiamavo la Malfa o che venivo da Bergamo mi facevano uscire molto poco. La situazione di allora assomigliava a quella che viviamo in questi giorni con il coronavirus. C'era il coprifuoco, cioè dal tramonto non si poteva più uscire e soprattutto si cercava di non far uscire i soggetti pericolosi come ero io. Quindi io sono stato in casa per molti anni. Tra l'altro ricordo questa vicenda, questa casa era su due piani, era il penultimo piano e l'ultimo piano. E nell'ultimo piano c'era una soffitta piena di bauli con vecchi vestiti, vecchie tende, i principi caraccioli, delle principesse caraccioli. E noi attraverso una scala a chiocciola dalla cucina salivamo, mia sorella e io, a giocare in questa soffitta. Un certo giorno mi alzo la mattina, vado in cucina per salire e non c'è più la scala a chiocciola. E chiedo informazioni dove è la scala a chiocciola perché volevo salire. E tutti mi dicono che non c'è mai stata una scala a chiocciola. C'era un bellissimo armadio e io mi dicevo ma qui c'era una scala, sembra che io dicessi, qui c'era una scala a chiocciola. Perché? Perché attraverso i tetti potevano salire, in caso che arrivasse la polizia o l'SS improvvisamente salisse dalle scale, mio padre, Bauer e Volterra avrebbero potuto salire dietro dai tetti e infilarsi dentro questa soffitta sperando che naturalmente la polizia non facesse una perquisizione troppo accurata. Insomma, dopo la fine di queste vicende, io mi ricordo di avere l'impressione che vedevo il quartiere, il quartiere era Trastevere, per esempio mi ricordo, è indelebile, che andammo nel teatro reale che c'è ancora, si chiama in un altro modo, a piazza Gioacchino Belli, c'è un cinema, era un cinema teatro, si chiamava teatro reale. Eh, mi sa il cinema reale, però ora è chiuso, mi sa. Sì, forse adesso è chiuso. Era di Ferrero, sì sì. Esattamente, lì ci fu un primo comizio, secondo me doveva essere forse per le elezioni del referendum della Repubblica, come sai si svolse il 2 di giugno del 46, si svolse il referendum per decidere tra la monarchia e la Repubblica. Io ricordo che mio padre fece un comizio lì, o un discorso al teatro reale, e c'era l'impressione, ce l'ho nella mente, e a quel punto dovevo avere quasi sette anni, il senso che la gente usciva di casa, c'era una grande fervore, una grande felicità. Io ricordo questa impressione, e mi farebbe piacere che se così potesse essere dopo questo confinamento che stiamo subendo per effetto del coronavirus, si aveva l'impressione che l'Italia tornava a respirare. Era caduto il fascismo, e quindi si poteva parlare, era finita la guerra, e quindi non c'era da temere per una morte improvvisa, si poteva lavorare. C'era l'impressione nell'aria di una primavera, di una grande primavera, l'impressione come di un paese che forse riprendesse a respirare. E questo mi è rimasto nella mente. Poi in fondo, d'altra parte, sono gli anni subito dopo, cominciano quelli che si chiamano gli anni del miracolo economico. Cioè la guerra finisce nel 45, poi nel 47-48 gli americani decidono di fare un grande piano per la ricostruzione dell'Europa, che si prende il nome dal generale Marshall, si chiama il piano Marshall, in cui gli americani offrono dei soldi, e la grande idea che rende differente la seconda dopoguerra dal primo dopoguerra è che i soldi per la ricostruzione vengono messi a disposizione dei vinti e dei vincitori, cioè della Francia, ma anche della Germania e dell'Italia. L'Italia poi aveva uno status perché era stato uno dei paesi dell'asse con la Germania fino all'8 settembre del 43, poi dopo l'armistizio aveva chiesto di essere riconosciuta come parte dell'alleanza che avrebbe vinto la guerra, ma non ci venne attribuito questo status. Pensavo che l'Italia aveva uno stato intermedio tra quello della Germania e quello dei paesi vincitori, ebbene il piano Marshall diede vita a una forte ripresa, ripartivano le fabbriche, eccetera, e io sono cresciuto quando nel 60 io avevo 21 anni l'Italia era cambiata completamente. Aveva iniziato il dopoguerra come uno dei paesi più poveri dell'Europa all'inizio degli anni Sessanta, era un paese ancora pieno di contraddizioni, ma è ormai una delle grandi potenze industriali del mondo. Ed è diventata in quegli anni il settimo paese industriale al mondo, e nonostante le difficoltà che abbiamo avuto e gli errori commessi dalle classi dirigenti negli ultimi 50 anni, perché tanta è dura, in fondo l'Italia conserva una condizione di forza economica che è quella che costruì in questi 10-12 anni straordinari della ricostruzione e del miracolo economico. Grazie a tutti.